ciao a tutti oggi non faremo un tutorial come al solito ma bensì vogliamo mostrarvi quattro delle texture che saranno di maggior tendenza nel 2021 stiamo parlando delle texture con finitura gessata sono texture che presentano un forte effetto materico in stile vintage verso la fine dello scorso anno vi abbiamo proposto la versione bianca dell'effetto legno gessato codice vd 068 assieme alla versione scura denominata rovere grafite gessato vd 036 ecco quest'anno abbiamo introdotto da poco tempo due nuove varianti il codice vd 038 denominato rovere siderale e sempre gessato e il codice vd 039 denominato rovere seta il vd 038 ha una colorazione che si sposta tra il grigio e il verde all'incirca con venature a rilievo molto pronunciate mantiene lo stesso disegno del vd 036 il codice vd 039 denominato rovere seta invece ha un disegno un po più simile al vd 068 ma con una tinta grigio chiara e venature meno ampie ecco come vedete la tendenza anche per quest'anno rimane sui colori sui colori tenui niente di eccessivamente sgargiante che ben si sposa con quasi tutti gli ambienti della casa a queste colorazioni anche in base al vostro riscontro andremo ad aggiungere nuove tonalità e andremo ad arricchire la gamma appunto delle tinte gessate voi cosa ne pensate avete suggerimenti per le nostre nuove texture lasciate un commento un suggerimento qui sotto e fateci sapere la vostra opinione ci vediamo la prossima ciao ciao